Io lavoro all'americana, come avrebbe fatto Robert De Niro. Odio interrompere un momento così poetico, siamo pronti per una prova. Sono stato per tre mesi a lavorare dentro una clinica di chirurgia estetica. Mi piace essere impacchettato, essere vendato, perché mi rilassa. Per assimilare tutte le caratteristiche del chirurgo estetico. Sì, no, ma questa è una cosa che ho richiesto proprio io. Il frango, ora chiudiamo e la giriamo. Quest'anno stiamo cercando di portare sugli schermi un film che non parla necessariamente dei problemi del quotidiano. Oh, tolto pane e pasta e come qua, mi cade in quanta luna. Ma è un film più che altro d'azione. No, ma col vedo divento subito Madonna, vedi? Una scena che mi ha divertito, quella sull'equivoco, con appunto Giulia Bevilacqua. Questa scena mi fa troppo ridere. Per un certo punto il film noi capiamo, pensiamo che lei sia una sorta di ninfomane. Vorrei che fosse chiaro che per me questa situazione è un piacere. Prima lo facevo per lavoro, poi mi sono sposata e ho smesso. Grazie. Grazie.